Ciao a tutti! Bentornati su Hardhawk Productions! Sono qui con questi pazzi! Genna Argentu! Stiamo avviando verso il rifugio a Sarena, non senza intoppi, no! Abbiamo aiutato una coppia ad invincolarsi in mezzo alla neve perché sono inoltrati qui senza catene. Comunque, la parola alle donne, prego! C'è un freddo che neanche più immaginate! Ce la faremo! Ce la faremo! Però guardate il panorama in compenso! Guardate il panorama, bellissimo! Si vede fino ai monti di niente! Sì! Ehi! Più e alta tu sei fatica! Eh, quello sì! Sì come la camionera dove non c'è quel casino! Sì! Vai Cecchino! Sono qui con il nostro Matteo Meloni! Un saluto! Da east-west e passato a through-nord! Siamo, insomma, a buon punto, stiamo raggiungendo il rifugio e da lì possiamo spostarci in direzione di Punta la Marmora ma il percorso è lungo e la giornata non è delle migliori da quel punto di vista! E' già! Eccoci al rifugio Sarena! Altitudine! L'orologio mi da 1.5 e 10! Bene! E allora! E allora? dopo il pranzetto proseguiamo in un percorso alternativo a buon passo a buon passo c'è una mezza tormenta di nevischio quindi si scende grazie a tutti